Sembra che c'è il terzo piano. No, non è vero, è una finestra finta, non c'è il terzo piano. Ma la cosa che mi ha sconvolto più di tutte sono loro. Le persiane finte. Le mettono così alle finestre giusto per decorare l'esterno delle case. Le pietre sono di plastica. La cassetta delle lettere è fatta totalmente di plastica. Il rivestimento delle case non è in legno ma è fatto di plastica. Anche questa è plastica. Le colonne all'esterno sono di plastica. È plastica anche questo. Beh, è una bella casa fatta di plastica. E l'armadietto sotto al lavello è finto. Non si apre.